Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 per lavori fino alle 18 del 17 dicembre è chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Sulla Fipili per lavori rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest in entrambe le direzioni. Sulla Statale Trebis Tiberina chiuso per lavori in entrata e uscita lo svincolo di Pieve e Santo Stefano Sud in direzione Orte. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero chiuso per Frana il tratto tra Borgo Ammozzano e Bagni di Lucca, deviazioni sul posto. Ricordiamo che oggi è in vigore lo sciopero dei benzinai che riguarda anche le stazioni di servizio autostradali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!